Ti sei mai chiesto cosa succede quando un'economia delle dimensioni della Cina decide di lanciare un imponente pacchetto di stimoli economici? Potresti pensare che questo riguardi solo il mercato cinese, ma in realtà ha conseguenze globali che potrebbero influenzare anche il tuo portafoglio di investimenti. Recentemente, la Cina ha messo in moto uno dei più grandi pacchetti di stimolo economico dalla pandemia, con miliardi di yuan iniettati nell'economia. Ma cosa significa questo per gli investitori? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. La Cina, che rappresenta la seconda economia più grande del mondo, è alle prese con una serie di problemi economici, tra cui il crollo del suo settore immobiliare, che rappresenta ben il 30% del PIL del paese. Molti grandi sviluppatori immobiliari, come Evergrande, sono in difficoltà a causa del peso del loro debito, mentre migliaia di progetti immobiliari rimangono incompiuti. Questo ha portato a una profonda sfiducia dei consumatori, con una conseguente riduzione della spesa. Quando le persone smettono di spendere, si innesca un circolo vizioso di deflazione, i prezzi scendono, ma ciò paralizza l'economia poiché i redditi smettono di crescere e le aziende guadagnano meno. Per evitare che la crisi si trasformi in una vera e propria recessione, la banca popolare cinese ha deciso di intervenire. Hanno abbassato il tasso di riserva obbligatoria delle banche di mezzo punto percentuale, liberando circa 1.000 miliardi di yuan, ovvero circa 142 miliardi di dollari, per nuovi prestiti. Questo denaro è ora a disposizione delle banche per prestarlo a famiglie e imprese, con l'obiettivo di stimolare la spesa e rilanciare l'economia. Inoltre, il tasso di interesse sui prestiti a breve termine tra banche è stato ridotto, abbassando il costo del credito in tutto il sistema economico. Questo significa che i consumatori cinesi con mutui esistenti vedranno ridursi i tassi di interesse, il che potrebbe tradursi in un risparmio significativo nel tempo. Ma l'intervento non si ferma qui. La Cina sta anche supportando il suo mercato azionario, fornendo 500 miliardi di yuan a investitori istituzionali come assicuratori e fondi, rendendo più facile per questi ultimi comprare azioni. A ciò si aggiunge un programma di prestiti da 300 miliardi di yuan per le aziende che desiderano riacquistare le proprie azioni, una mossa che potrebbe sostenere ulteriormente i prezzi delle azioni. Questo non riguarda solo la Cina. Il pacchetto di stimoli potrebbe avere un impatto significativo sui mercati globali, inclusi quelli statunitensi. Gli stimoli economici, come quello cinese, spesso portano a un aumento del valore delle attività, il che significa che potremmo vedere un rialzo dei prezzi delle azioni anche negli Stati Uniti. Le aziende che dipendono dalla Cina o dal commercio di materie prime potrebbero beneficiare di questo stimolo. Ad esempio, le compagnie legate alle materie prime, come ExxonMobil e Freeport e Mechimoran hanno già visto i loro titoli aumentare significativamente di valore in seguito all'annuncio del pacchetto. Per quanto riguarda il Bitcoin, ogni volta che un governo immette liquidità nel sistema, si riaccendono i timori sulla svalutazione delle valute tradizionali. Bitcoin, con la sua offerta limitata di 21 milioni di monete, viene spesso visto come un rifugio sicuro contro l'inflazione, e anche la criptovaluta ha visto un rialzo significativo. Ma cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? La Cina probabilmente continuerà ad attuare ulteriori stimoli per evitare il collasso economico, e altri paesi, in particolare in Europa, potrebbero seguire l'esempio. Questo potrebbe portare a un aumento generale del valore delle attività, ma anche al rischio di bolle speculative. Per gli investitori, questo può essere un momento interessante per continuare a investire, ma è importante essere consapevoli dei rischi. Personalmente, continuerò a investire nell'indice S&P 500 e in Bitcoin, mantenendo la strategia del dollar cost averaging, che mi permette di mediare i costi nel tempo. Inoltre, cosa pensi di questa situazione? Quali saranno, secondo te, le conseguenze di questi stimoli economici globali nei prossimi 6 a 12 mesi? Detto questo, grazie per averci seguito fino a questo punto. Non sprecare il prossimo volo cripto. Grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non sprecarvi una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video.